Una giornata storica, il primo intervento a Vicenza di chirurgia robotica dell'Anca. Ad eseguirlo l'ex primario di ortopedia del San Bassiano che dopo aver lasciato l'ospedale di Bassano del Grappa oggi opera in una casa di cura privata. Oggi qui a Villa Berica abbiamo eseguito il primo intervento di chirurgia robotica dell'Anca e questo è un motivo di orgoglio per tutti noi. Abbiamo operato una paziente di 61 anni affetta da un'artrosi dell'Anca destra e abbiamo impiantato una protesi con l'aiuto del robot. E così quello che prima era un'eccellenza dell'ospedale San Bassiano oggi diventa un primato di Vicenza. E infatti nella casa di cura Villa Berica che si è trasferito non solo il dottor Giovanni Grano ma anche il robot chirurgico Mako Striker dopo la sperimentazione effettuata all'Ul7. L'importanza di questi robot qual è? È che aiutano moltissimo il chirurgo nell'espletare la propria attività chirurgica. Quindi è un aiuto che il robot ci dà. Tengo a sottolineare che non deve sostituire il chirurgo. Una tecnologia di ultima generazione che permette di avere migliori risultati. I risultati vuol dire sia la lunghezza degli arti per esempio nelle protesi sia la stabilità della protesi sia la durata nel tempo della protesi che sono un po' quelli i punti critici di una chirurgia protesica. E quindi questo ci permette non solo di operare pazienti in giovane età ma anche di dare dei risultati funzionali importanti che permettono al paziente poi di ritornare anche a fare attività sportive. Oggi sempre più pazienti ci chiedono anche il sessantenne, il settantenne ci chiede non solo mi tolgo il dolore, ci chiede di voler ritornare a giocare a tennis, voler fare quelle attività sportive seppur a livello ludico e quindi non a livello agonistico. Però i pazienti oggi ci chiedono questo e quindi il robot è un grosso aiuto che ci dà in sala operatoria proprio per nel posizionare in maniera corretta l'impianto protesico. E così con questo intervento oggi si apre una nuova pagina di storia per la chirurgia robotica dell'anca a Vicenza. Oggi abbiamo appena effettuato il primo intervento di protesi d'anca con robot, evento sicuramente prestigioso che segna l'ingresso anche di questa casa di cura in quello che è il futuro della protesica. Il risultato è stato sicuramente soddisfacente e vedremo nei prossimi giorni come questa metodica prenderà sempre più piede in questa struttura.